Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlare dell'argomento dell'omega per suoce che stingerebbe i polsi e che quindi si vedono su Instagram e sui vari social questi polsi che sono colorati di blu, di viola. Ora è naturale e è quasi offensivo, credo nei vostri confronti dirvi che questa è naturalmente una banalità, è assolutamente una panzana. È chiaro che queste plastiche non stingono, ora parliamo della swatch, è chiaro che questi sono orologi che sono stati testati in tutte le condizioni, a tutte le temperature che possono esserci diciamo così sulla terra, per cui è naturale che questi orologi non stingono, non c'è verso. Lì c'è un adesivo, c'è un adesivo ragazzi, staccateci questo adesivo. Ora questo adesivo è messo lì perché ci sono tanti che vorranno collezionare questi orologi. Io mi immagino, anzi tanto così colgo anche l'occasione, che di tutti questi, non so quanti sono modelli, se sono 10, 11, 12 modelli, ce ne sarà qualcuno che mancherà, cioè nel senso che sicuramente qualche esemplare magari sarà un pochino più raro, oppure sarà raro, per cui potrebbe avere un senso avere e collezionare quel particolare modello lasciandoci l'adesivo. Ma se lo volete utilizzare, porca della miseria, elevateci quell'adesivo. Poi vorrei anche cogliere l'occasione per rispondere a quelle persone che insistono e dicono che quello è un movimento al quarzo che durerà qualche anno. Ragazzi, anche da questo punto di vista, cambiate idea, fatevene una ragione, ormai il quarzo c'è dal 69. Sapete che c'è il mio tag oil che vi ho fatto mille volte vedere, non ve lo faccio rivedere, che sono 34 anni che ce l'ho, sono 34 anni che gira questo calibro al quarzo. Cioè effettivamente noi non sappiamo neanche quanto possano resistere questi quarzi e quanto possono andare avanti, ma qua le stanno andando avanti, stanno dimostrando un'affidabilità impressionante, per cui io non ritengo proprio che questi movimenti in un paio d'anni si distruggeranno, così come penso e sono sicuro che queste plastiche non stingono. Ora io ho fatto questo breve messaggio, spero che sia chiaro per tutti. Io naturalmente l'orologio non l'ho neanche visto, ma ci si arriva anche a un ragionamento talmente basico che mi sembra anche offensivo per quanto riguarda le persone che si occupano di orologeria andare a pensare o a credere che un'azienda come Swatch possa realizzare un orologio che effettivamente ha delle plastiche che stingono. Insomma il livello per quanto riguarda la plastica ormai è talmente avanzato e poi Swatch è veramente, da questo punto di vista insegna, ha insegnato a tutti a costruire orologi in serie in numeri elevatissimi perché ha fatto dei numeri strabilianti negli anni 80, negli anni 90, che insomma mi sembrerebbe veramente anche offensivo pensare, ma non offensivo nei confronti di Swatch, offensivo nei confronti diciamo così dell'intelligenza delle persone insomma che si occupano di orologeria. Se vi è piaciuto questo video mettete un like come sempre, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!